Il Parco del Sole verrà riconsigliato alla città a fine mese, a dirlo è l'assessore Emanuele Imprudente che ha riferito nella riunione della Commissione Consigliare Gestione del Territorio presiduta da Raffaele Daniele. Per quella data saranno terminati i lavori del complesso progetto di rifacimento e valorizzazione che ricomprende il parco giochi, il restyling del verde e degli arredi, un percorso benessere per le attività motorie, il teatro all'aperto progettato dall'artista Beverly Pepper e il laghetto all'interno dell'area. L'assessore Imprudente, che ha preso parte alla seduta, è intervenuto e ha colto l'occasione per traggiare un prospetto sintetico delle attività di gestione e valorizzazione del verde pubblico e dei parchi urbani. È stata una proficua occasione, ha detto Raffaele Daniele, per fare un bilancio riguardo alla materia e per acquisire importanti informazioni. Altra importante novità che l'assessore ha portato all'attenzione dei commissari è relativa all'orto botanico di proprietà della provincia, l'imitrofo alla basilica di Colle Maggio. Dati gli elevati costi di gestione, pari a circa 100.000 euro l'anno, al fine di avviare i programmi di recupero e valorizzazione dell'area, l'assessore Imprudente ha annunciato di voler promuovere una sinergia istituzionale tra enti che consenta l'avvio di progettualità dedicate. L'assessore ha anche detto che entro due settimane sarà completato un nuovo regolamento che disciplina l'adozione e la sponsorizzazione dei rotatori a riverdi, un documento che consenta di superare i limiti e le criticità riscontrate in precedenza e di dare nuovo impulso e immediata utilità a queste buone pratiche nell'interesse collettivo.